Con voi ci sono tante persone che oggi in modo concreto, visibile, vi esprimono il loro affetto, la vostra vicinanza e in particolare le vostre famiglie, i vostri papà, le vostre mamme che tanti sacrifici hanno fatto per voi e che oggi con voi gioiscono per questo momento e che certamente oggi non vi mettono alla porta, non vi abbandonano al vostro destino della serie, ma sentiamo che quando noi torniamo alla casa delle nostre belle mamme, dei nostri papà, torniamo sempre a casa nostra, diciamo vada a casa mia, anche da sposata e questo è molto bello perché ancora continueranno a starvi vicino, a sostenervi certo con discrezione perché è giusto che sia così, ma sapere che ci sono dei punti di riferimento è sempre importante e poi c'è un'altra presenza meno visibile, ma non per questo meno efficace, è la presenza di Dio, per questo siamo qui, per questo siamo venuti in chiesa, perché sappiamo che Lui è accanto a noi in ogni momento della nostra vita, come abbiamo detto poco fa, nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, sappiamo che possiamo contare su di Lui. 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 I wanna marry you